Via l'asfalto della discordia dal sagrato della cattedrale di Catania, stamani infatti è stato rimosso il nuovo tappetino installato nelle scorse settimane, divenuto però un vero e proprio caso, anche se è bene ricordare che anche prima di questi lavori nella stessa area c'era un manto d'asfalto. L'operazione di rimozione è stata coordinata dalla Curia che momentaneamente realizzerà uno strato di cocciopesto. Questa pavimentazione sarà fruibile immediatamente e immediatamente dopo io ho chiesto di concetto della sovrintendenza e Curia di fare un progetto che richiami la pavimentazione lapide ottocentesca in modo che ci sia da una crisi un arricchimento architettonico della nostra città.